Nelle ultime 24 ore risalgono decessi e contagi in Molise. Le vittime sono tre, un 93enne di Campobasso, una 97enne di Ururi e un 76enne di Sessano. I nuovi positivi invece sono 516 su 2.747 tamponi processati. Il tasso di positività è al 18,7%. Nel bollettino anche 180 guariti. Gli attualmente positivi sono ora quasi 8.000. Sul fronte ospedaliero si registrano tre nuovi ricoveri e quattro dimissioni. Sono ora 29 i pazienti ricoverati a Cardarelli, ma la terapia intensiva resta vuota. Per quanto riguarda invece la provenienza dei nuovi casi, in testa Campobasso con 107 positivi, poi Termoli con 73 e Isernia con 28. Numeri a due cifre anche in altri otto comuni, Venafro con 18, Larino 17, San Martino e Riccia 13, Campo di Pietra 12, Ripali-Mosani 11, Boiano e Macchiagodena 10. E come sempre il venerdì è arrivato anche il monitoraggio settimanale sulla pandemia realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. L'indice RT del Molise sale a 1,34. La regione resta a rischio moderato. L'incidenza è in lieve calo, 877, mentre la settimana scorsa era 890. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto, il dato sale in area medica al 18,8%, ma resta a zero per quanto riguarda le terapie intensive.